Cari amici, per chi può, vi chiedo gentilmente di venire a donare il sangue presso l'ospedale di Salerno al Dipartimento Trasfusionale, da lunedì al venerdì mattina. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Vincenzo Inverso, componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallottiano e Alburni, da sempre impegnato per il territorio. Serve per me personalmente a più, indicando ematologia inverso, continua Vincenzo, ma conoscendo la vostra generosità potete farlo anche se di altri gruppi sanguigni, per persone che sono qui nelle mie stesse condizioni e lottano in questo momento, come me, per sconfiggere questa brutta bestia che è la leucemia mieloide acuta. Sono parole forti quelle di Vincenzo, ma allo stesso tempo colme di speranza. Il consigliere del Parco del Cilento non ha mai perso la fiducia né il suo sorriso. Lo testimoniano i tanti post corredati da foto dove la sua serenità prevale. Quando inizi questo tipo di lotta, sottolinea Vincenzo, tieni con te poche ma potentissime armi, la fede, la famiglia, gli amici di tante battaglie, la grande professionalità dei medici, degli infermieri e del personale sanitario che ti è di fronte e l'affetto infinito di tutte le persone che arriva forte via etere.